Successi, sacrifici e partecipazione hanno reso il 2019 un anno fondamentale per la crescita dell'intero movimento atletica ad Agropoli e nel Cilento. Ancora una volta la pista Pietro Mennea è stata scelta come luogo di grandi eventi. I campionati italiani Under-18, i numerosi campionati regionali e tanti incontri per far conoscere l'atletica, soprattutto i più piccoli, ne sono l'esempio. Tra tutti i successi spicca la vittoria ai campionati italiani Juniores Giuseppe Filpi, i suoi 110 metri ad ostacoli si sono rivelati letteralmente d'oro, facendolo balzare per il secondo anno consecutivo ad una manifestazione di carattere europeo. Questi sono solo alcuni dei tanti punti che verranno celebrati durante il consueto Gran Galà che si svolgerà venerdì 17 gennaio dalle ore 18 presso l'auditorium del liceo scientifico Alfonso Gatto di Agropoli. Il 2020 si preannuncia altrettanto ricco di emozioni, con i nuovi centri di allenamento aperti su tutto il territorio e le nuove sfide a cui saranno chiamati i nostri atleti. Si parte subito forte il 25 gennaio ad Agropoli, si svolgeranno i campionati provinciali di corsa campestre categorie giovanili. Il 26 gennaio a Caivano andranno in scena i campionati regionali assoluti. A febbraio i campionati italiani di prove multiple indoor a Padova ed Ancona ci saranno in successione gli italiani junior e promesse, allievi assoluti. A marzo si è ritorna ad Agropoli per i campionati regionali individuali e di società di cross, categorie sordienti ragazzi e cadetti. Ancora corsa campestre a Campi Bisenzio, in provincia di Firenze, per i campionati italiani. Questo è solo il calendario dei campionati di un 2020 ricco di sport e di tante altre manifestazioni per far sì che i nostri atleti possano raggiungere i propri obiettivi.